Quello muove subito in Natale, finita così Ohhhh, guarda che è tornato! De Mesh, De Rob Mamma mia ragazzi una vacanza bellissima, 10 giorni di vacanza, 7 a Formentere, 3 a Ibiza, tutto spesato, all inclusive Non fai quanto mi è venuto a fare? 140 euro, 140 euro! Simo e tu dove sei stato? Ragazzi ho fatto questo giro del Mediterraneo in Barreta, Amaro, Isola d'Elba, la Sardegna, il Marocco, la Spagna, Ibiza, non sei capito niente Ho fatto questa contrattazione su un gruppo Facebook 70 euro a persona! Totale! E tu quello che fai? Guai ho doppia tappa negli Stati Uniti, New York, Los Angeles, che è un last minute 50 euro Cioè niente, poi lei si è ricordato, sai, quelle agenzie di viaggio vietnamita, per noi su internet paghi bitcoin, una valuta nuova alloggio, un visaggio turistico a Bali 6 euro 6 euro! 5 euro! Fabio, Fabio come sta abbronzando, Fabio, Messico! Tu Fabio? Mondragone, qua vicino, quattro ore di traffico in auto, albergo e mezza pensione, due serre, tre giorni, euro, 1625 Vabbè però dai, la macchina, l'Hondorone, la musica e macchina! Auto in ebollizione, testata fusa, carattrezze più meccanico, totale euro, 782 50 50 15 15 Allora almeno a Mondragone fanno le mozzarelle buone Sono indollerato, natto, sì 12 12 15 15 15 20 22 23 25 25